Come creare un account su BlockTrade facile. Vai su BlockTrade.com. Clicca Sign Up o registrati in alto a destra. Inserisci la tua mail e password e aggiungi gli altri dati necessari. Assicurati di confermare i termini d'uso. Conferma il tuo account confermando la mail nella tua casella di posta. Ora puoi loggare nel tuo account BlockTrade. Per un accesso illimitato verifica per sbloccare. Compila con il tuo indirizzo, prepara un documento valido e usa il tuo smartphone o telefono per verificare il tuo documento. Per continuare il processo di verifica segui il processo su Verif dal tuo telefono.